Mister, ci sono partite che non importa come le si vince, l'importante e la cosa fondamentale è vincerle. Sì, oggi è proprio il caso di dire così, perché è stata una partita molto sofferta. Io devo fare veramente i complimenti al Prato, che con una squadra giovane è venuta qua a giocarsi la partita. È l'unica squadra proprio con aggressività, con idee chiare sul da far, soprattutto nel primo tempo. Ci hanno messo le corda, abbiamo concesso qualche cosa sulle ripartenze, noi siamo stati poco attenti a coprire gli scarichi a centro campo. Però mi piace questo fatto, perché in questo momento qua era proprio di una partita del genere che abbiamo bisogno. Perché dobbiamo imparare anche a soffrire, per cercare poi di ottenere risultati. Senta, però dietro tantissime difficoltà, come mai il Teramo avevamo visto in difficoltà? Sì, sì, sono stati bravi loro, ma noi abbiamo un problema di superficialità. Anche oggi, pronti via, dopo manco un minuto abbiamo ricevuto un tiro in porta. Ecco perché, ripeto quello che ho detto prima, abbiamo bisogno di ritrovare quella solidità, quella aggressività e soprattutto quel piglio e quell'attenzione alla fase difensiva. Vittor, dopo il gol all'esordio in campionato sei tornato al gol oggi, una partita difficile anche per te, fino al novantesimo ti avevamo visto poco. Mi mancava il gol da qualche partita che non segnavo, come ho detto anche prima, però sono riuscito a segnare e dare questa vittoria importantissima per la squadra per stare in un palla classifica. All'inizio non eri impredicato di giocare, sembrava dovesse giocare Petrella, alla fine cosa ti ha detto Viverini? Cerchiamo di allenarci sempre bene durante la settimana per mettere in difficoltà il più possibile i mistri, poi al sabato sta lui la scelta e la scelta l'ha fatta e quindi chi va in campo sicuramente dà tutto di se stesso. Senti, ma da Silva si trova meglio in coppia con Moreo nel 3-5-2 oppure, come nella parte finale della partita, largo sulla sinistra con Petrella dall'altra parte e Moreo in mezzo? Guarda, per me indipendentemente dal modo mi trovo bene davanti, quindi non è un problema di modo dei compagni, mi trovo bene con tutti gli attaccanti della squadra, quindi questo non è un problema.